Ciao e benvenuto al videocorso intitolato Two Hours Workout livello 1. Avrai già capito che una delle cose più difficili da avere è una routine di studio quotidiana pratica ed efficace. Con routine efficace intendo quella serie di esercizi quotidiani che devi ripetere costantemente nel tempo in modo da far evolvere la tecnica delle tue mani. Hai presente quando vai in palestra e il trainer ti prepara una scheda di esercizi da ripetere ogni volta che vai lì? Ecco questo videocorso è il workout che rappresenta proprio quella scheda lì che io dato che ora sono il tuo personal trainer ho preparato appositamente per te. In questo videocorso ti farò mettere le mani su quel workout che io in gioventù ripetevo ogni santa mattina e che io ora voglio condividere con te in modo tale da svelarti la mia procedura o schema logico che mi ha permesso di ottenere un'invidiabile tecnica delle mani. Bene allora mi auto eleggo tuo personal trainer per queste 13 settimane durante le quali copriremo tutto questo workout. Essendo questo il primo videocorso relativo all'argomento workout è rivolto a una tipologia di studente di livello principiante o medio. Per quelli di livello avanzato c'è il workout di livello 2 dove troveranno esercizi che qui non ci sono e le velocità saranno ovviamente superiori. Per esempio nel workout 2 troverai la tecnica Müller e qui no. Troverai i 40 rudimenti del PAS mentre qua ne troverai solo 26 quelli del NARD. Vedi anche io in gioventù sono passato in quella fase in cui studiavo ore e ore e ore ma sentivo che stavo sprecando gran parte di questo tempo. Ti sto parlando di quella fase in cui le cose da studiare ti rendi conto che sono tante per cui stai rischiando l'overload, il sovraccarico. E allora mi sono chiesto come posso ottimizzare il mio tempo di studio. Fu così che cominciai a sentire proprio in quel periodo parlare di routine quotidiane, di workout che servivano proprio ad ottimizzare le ore di pratica. Ne parlavano gli americani quando venivano a fare le clinic in Italia. Ma siccome nessuno spiegava nel dettaglio di che cosa si trattasse ho deciso di farmele da solo. Adesso di preciso non mi ricordo chi mi illuminò su questo argomento particolare però quello che posso dirti di sicuro è che cominciai seriamente a crearmi delle mie routine giornaliere che con il tempo a forza di rimetterci sopra le mani per migliorarle e ottimizzarle sono arrivate ad un livello tale che ora posso permettermi di condividerle con te. L'unica cosa che ho modificato di recente è stata la suddivisione in due livelli. Quindi ho separato in due livelli questa tipologia di routine in modo da poter soddisfare sia lo studente principiante o di livello medio sia quello avanzato che tende al virtuosismo. Se hai avuto modo di vedere qualche mio video dove magari mostro degli esercizi o suono avrai notato che se c'è una cosa di cui posso vantarmi ed andare orgoglioso è proprio la tecnica delle mie mani. Quello che voglio fare io adesso è condividere con te questi schemi che mi hanno permesso di ottenere quel livello di tecnica delle mie mani in modo che anche tu possa arrivare almeno al mio livello e te lo auguro con tutto il cuore di superarmi perché si può fare. Per cui tutto ciò che ti serve te lo do io e in questo modo ti faccio risparmiare un sacco di tempo e soldi che invece io all'epoca a causa della mia ignoranza ho dovuto investire. Quello che ci devi mettere tu è solamente l'impegno e la costanza e te lo dico perché non stiamo parlando di talento, o arte. Qui stiamo parlando solo di ginnastica. In pratica ti sto solo parlando di duro lavoro giornaliero. Niente di più. Se vuoi accelere sotto l'aspetto tecnico di questo strumento c'è solo una cosa da fare. Devi ripetere costantemente e consistentemente questa serie di esercizi. Per cui per farti uscire da questa zona di confusione e incertezza e per ottimizzare le tue sessioni di studio ho deciso di organizzare questo workout in 13 unit. Ogni unit ti verrà rilasciata ogni sette giorni con un sistema automatico. Appena ti iscrivi riceverai una mail che ti dice che la prima unit è già pronta per te e poi riceverai una mail a intervalli di sette giorni dove ti verrà rilasciato un link con l'accesso alla unit successiva. Ho organizzato il lavoro in questo modo per evitare che ti venga voglia di saltare, di bruciare le tappe. Siccome stiamo parlando di un percorso ginnico è inutile saltare le tappe. Ti ripeto che l'aspetto più importante per questo tipo di lavoro è proprio la costanza e la consistenza della ripetizione. Te lo sto dicendo perché per costruirsi la memoria motoria, resistenza, velocità e relax devi solo ripetere gli esercizi tante e tante volte. Esattamente come quando ti alleni in palestra dove ripeti gli esercizi tante volte per aumentare la massa muscolare o l'elasticità. Infatti ciò che fa in palestra è ripetere tante e tante volte gli stessi esercizi fino a che non ti accorgi che li stai eseguendo senza sforzo. E cosa fai in quel momento? Aumenti il peso del bilanciere magari o la pendenza del tapirulano. Ecco nel nostro caso invece quando ti accorgi che stai eseguendo un esercizio senza sforzo aumenti il BPM. Tutto qua. Quindi tornando all'organizzazione del corso ti stavo spiegando che è organizzato in quattro macro sezioni. Nella prima macro sezione trovi tutti gli esercizi dedicati al workout binario relativo al controllo dei colpi singoli, doppi, tripli, quadrupli eccetera. La costruzione della resistenza per i rulli a colpi singoli e doppi e un workout particolare dedicato al controllo degli accenti. Nella macro sezione 2 trovi la stessa tipologia di esercizi ma su un flusso ternario quindi in 12 ottavi. Nella sezione 3 trovi invece tutto il lavoro dedicato allo sviluppo e il controllo dei rudimenti. Ho preso questa serie di esercizi adattando un classico dei workout dei rudimenti che è il rudimental ritual di Alan Dawson. Ho estratto da questo mega esercizio solamente i 26 standard Nard rudiments. Ok? Quindi non è enorme e infinito lunghissimo come l'esercizio originale. Ok? È ridotto e raggruppato a famiglie. Invece la sezione 4 conterrà tutte le registrazioni delle dirette facebook che faremo insieme ogni settimana durante le quali eseguiremo in tempo reale in diretta questi workout fino a costruirci il workout da due ore. Ok? Ogni volta che faremo queste dirette la registrazione della diretta la troverai nella sezione 4. Faremo tutto a velocità molto ridotta. Questo perché l'obiettivo di questo corso è quello di costruirsi la memoria motoria attraverso questo schema di esercizi che ti garantisco essere molto efficace. Se invece vuoi sviluppare la velocità pura e quindi già conosci questi esercizi ti rimando al workout di livello 2. Bene ora sai tutto ciò che ti serve quindi ti resta soltanto una cosa da fare. Cominciare! Io adesso ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo video che è la Unit 1 dove affronteremo il colpo fondamentale, l'inizio, il free stroke. Ti ringrazio ancora per avermi scelto e vedrai che non ti deluderò soprattutto se rimarrai con me fino alla fine. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!